La non filosofia è difficile da definire perché le parole non riescono a focalizzare la questione e soprattutto perché veniamo sviati dal riferimento alla filosofia, di cui magari qualcuno ha una vaga idea di cosa sia. Si può però seguire una traccia, ovvero avvalerci di una metafora. Ora immaginiamo di avere una casa molto grande, magari antica, e che non conosciamo tutte le stanze. In particolare non ne conosciamo una. Però sappiamo, e i nostri sogni ci portano lì, che in quella stanza troveremmo proprio quello che ci serve. Questa stanza è la non filosofia. Possiamo fare grandi scoperte. Ma è la stanza che non conosciamo, la stanza che vorremmo conoscere e che abbiamo già conosciuto, ma soltanto il presente ci ha diradato i suoi ricordi. Grazie. 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 Grazie.